poco più sotto del primo ritrovamento di mazze di tamburo andiamo più sotto e troviamo e trovo altre mazze di tamburo ovvero le prime non le ho trovate io però queste si sono 5 e ricordiamo 19 giugno quota circa 500 metri questa è la prima sono andato da sopra, l'ho vista poi subito un'altra di qua poi a questo punto ho detto basta è finito sono andato avanti sono esplorato questo posto un po' di radura non ho notato subito questi due mazze di tamburo le ultime che le ho trovate questa e questa qua e per ultima in questa zona la mazza di tamburo più nascosta sembra che vogliono giocare nascondino eccola qua bella questa giornata prima uscita nei boschi con l'intenzione di andare a porcini ma comunque soddisfatti di trovare queste mazze di tamburo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti